Sportivi buonasera ai veterani della sezione di Arezzo, benvenuti a questa fiora l'occhiello dei veterani dello sport della sezione di Arezzo. Nella treta dell'anno del 2021 è stato designato dal consiglio direttivo Immanuel Rossi un notatore della Narinantes che ha conquistato il titolo italiano quest'anno con la propria squadra. Ma non sarà soltanto lui ad essere premiato ma ci sarà anche l'atleta emergente Immanuel Volpi che ha debuttato lo scorso anno in Serie A raggiungendo le 15 partite di Serie A quest'anno. Poi ci sarà inoltre Daniele Bennati, che aveva visto bene il consiglio direttivo del 2002 quando individuò in Bennati l'atleta dell'anno del 2002 e dopo 20 anni l'abbiamo ritrovato commissario. Ma ci sarà anche la società più longeva della Toscana, cioè la nostra ginnastica Petrarca che sarà premiata e poi non per ultimo ma diciamo così a corollario delle sue prestazioni da oltre 50 anni il nostro Presidente Onorario, il Presidente dei Cavalieri Mario Capaci verrà insignito di un ricordo particolare per far sapere che non sempre le persone del pubblico, le persone che operano nel settore pubblico possono essere insegnite di premi particolari ma anche il privato può essere degno di valori importanti e da premiare. Quindi intervenite numerosi alla domenica, mercoledì, festa dell'Immacolata, messa solenne alle ore 11 alla Pieve Don Alvaro impartirà la consueta benedizione dopo la messa, santa messa, dopo il rito ci sarà questa premiazione dell'Atleta dell'Anno che è il fiore all'occhiello dei veterani della sezione a retina dei veterani dello sport.